Buongiorno a Vito, ho fatto una citazione per Fisano. C'eri anche tu nel film, Vito, non ti hanno invitato, no? Cioè, te l'hanno proposto e tu non hai andato a fare, eh, che fai i filmetti. Invece il dottore? Scartini, Giuseppe. Giuseppe D'Ar? Bari. Bari, anche tu. C'hai Arturo, uno stile e il dono, c'hai, guarda. Sei scichissimo. Qui abbiamo... Alessandro Gattano. Alessandro di Montalupo, Gigi Reito. In centro, sai che chi sta in Banco Centrale c'ha una responsabilità, eh? Cosa? Eh, di fare una grande gara. Tutti hanno una responsabilità di fare una grande gara. Indipendentemente dalla posizione. Ma sì, scherzo. Presenta di al pubblico. Allora, Ferrugero, lavora a Bari, guarda gli amici, i locali in cui si lavora di tutti e tutti a Bari. Siamo contenti. Presento un ring, si chiama Juan Mori Gayle. Ci parlavamo di due una volta e... I capiglioni. Allora, una volta! A bocca al lupo! Poi abbiamo... Sono Nassisi, sono un profusidente tecnico per l'American Bank. Presento un drink dal nome Chieto, con una base di vodka, con una base di bassoa, con un yogurt per la peste. Ci ha spiegato tutto, bravo! Ma tu sei di Ugento, per caso? No, perché un Nassisi è un cognome di Ugentino. Signore e signori? E' Bria, grazie. Sua amica buona. Brava e Bria, facci vedere cosa sai fare. Vediamo se si presenta in poche parole o vuole raccontarci anche lui la rata e la fama. Conoscendolo non manca di luogacità e gestualità. Io non acconto niente perché tutti gli anni mi fai le stesse ruote. No, io non faccio nessuno domani. C'è il limone, c'è le calose. Il limone non c'è il pergamotto. Ecco, vedi? E' un'unica nazione che produce il pergamotto nel mondo. Per le case del giudice. Lo so, lo so. Sono anche dei profumi molto pregiati. Omaso. Colonna. Secondo me iniziamo. Musica! Sei libri per voi. Ultima batteria non drink. Lo dette, verrà? Uоų! Uooo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.